se no ci tolgono il firewire se lo vai a dire ci tolgono il firewire no perchè tu non lo devi dire perchè io non lo sapevo e io lo so questa è una pezza sconvolgente meno male non c'è nessuno che ci ascolta perchè se no guarda può generare il parco c'è qualcuno che ci ascolta no c'è nessuno che ci ascolta nessuno dove? nangio un parco nangio un parco ci ascolta nangio un parco ci ascolta nangio un parco ci ascolta sempre nangio un parco ci ascolta sempre nangio un parco ci ascolta sempre nangio un parco dice gli appiccio i nostri desideri dicendo che conosco un videomeEngio e non caro nabico nangio un parco mi ha fatto carumegger no ma se la managlio un parco ciую le fronte a goere a fare ci posso dare sopra una car공io ma che ha fatto i soldiCom оно a fatto un figo secco di niente Ma come lo ha fatto mio tempo? E' l'idea che ha fatto! No, anche la Juve Bike! Ma come no? Ti dico di no! Ma te ci ha provato! Me l'ha detto lui che non mi ha detto dell'USB3 Me l'ha detto lui! Me l'ha detto lui! Ma te, oltre ai piccoli della tua... Me l'ha detto anche una Juve Bike! Me l'ha parlato! Me l'ha parlato! Quando ieri ero in cucina a preparare un stupetto! No! Prima di guardare la televisione! No! Me la Juve Bike! Me l'ho visto a Calire vicino al cornello della mia venina! Non parlare mai per l'USB3! No! Come si chiama? L'USB3! L'USB3! No! Sì! Non parlare mai per l'USB3! Non parlare mai per l'USB3! Prima dalle informazioni e poi si rovinate le informazioni all'altro! Ma sai perché? Perché lui dice così! Perché lui era caoista! Per esempio se parli troppo di Dio! Non funziona! E' come se per esempio parli troppo del sesso! Lo parli in maniera esplicita! Non funziona! E' il meglio dell'USB3! Devi parlare così! Perché non funziona! Non funziona l'USB3! E' tutto questo! E' tutto questo! Arrangio un bike! Mentre preparami sugo! Sì! Io devo parlare sugo più spesso! Perché! A me mi ha detto al mezzo! E ti faccio vedere! Sì! E ti faccio vedere! Una cronaca! Di una cosa! Una cronaca piena! Cioè! Cosa avviene! 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 inglese, niente, solo italiano, io parlare solo italiano, sì, tu piace Italia, eh, bella mare, sole, eh, piove, sì, ma anche sole, eh, stare meglio Italia o stare meglio Germania, eh, eh, se io non invadimo il mondo da sua persona, invitarei volentieri, volentieri mangiare SpaghettiO, eh, un bel SpaghettiO, Italia SpaghettiO, Roma Buone, Roma Buone, buone buone, sughe, carne, frittate, tutta roba di elimina perché in Italia noi piacere, noi italiani volere, piacere, mangiare bene. La panza è una cosa sacra per noi italiani. Non so il mio, sta affronta a te, sta affronta a te. Ehm. Oh, eh, ma, eh, scusate, ma sai che cosa è successo? No, nemmeno io. No, no, allora, allora basta. Allora basta, è finito, si può rivedere in un'altra puntata. Allora, allora, è successo che ero sbagliato. E' sbagliato tutto. Io lo sbagliato al fai. Invece io ti ringrazio. Ti ringrazio, perché io intanto mi sono moltiplicato. Ti sei indirittente. Come io anche sei moltiplicato. Perché quando metto in confessione con te, io mi moltiifico. Perché te mi dici delle cose che mi fanno crescere, qui, no? Io mi moltiifico. Io mi piacere. Io mi piacere. Io mi piacere.